Buongiorno, benvenuti a tutti, sono Armando Pisani, questo è il canale YouTube di OpenDante dove io raccolgo le mie lezioni che ho tenuto per i ragazzi, in questo caso del primo anno del liceo scientifico, quindi qui troverete le lezioni essenzialmente riguardanti gli insiemi, relazioni, funzioni, il calcolo numerico, il calcolo algebrico, letterale e la geometria e l'idea e spero che le lezioni vi siano chiare, vi siano utili, vi auguro buona visione e buono studio, vi invito a iscrivervi al canale e vi ringrazio per aver visto le mie lezioni, grazie e buono studio e alla prossima.